Emilia, ma che cosa festeggiate oggi? I miei 94 anni, i tuoi primi 94 anni, poi l'anno prossimo facciamo 94 bis o 95 bis? Ho il senso amore, ho la stessa persona, Simone non ti vuole Aspettate che... Ci dobbiamo fare un brinco Allora il più ben aiutato è questo Salute 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 America Salute 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 Auguri, auguri, quando venite siamo buoni. Questa che cos'è? E' la maccaronara, famoso maccarone. Maccarone, italiana maccarone, no? Non sono leccine, si chiamano maccarone alla chitarra. Maccarone alla chitarra, la chitarra è giapponese, che c'è una corda qua e la corda qua. E' un po' di peperoncino. E' un po' di peperoncino. Ecco qui Emily. Vecchi ricordi, eh? Precisamente belli. A mamma non piacciono. Perché sa ricordo di... In America, Rosa, tu parli inglese? No, non si, figli. Non, due, due. E' stop. Un po' di peperoncino. Grazie. Guarda, ti do. Anche un pochino di maccarone. Questo è un po' di peperoncino di pasta, italiana pasta. E' un po' di peperoncino. 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 Grazie. Va bene, grazie. Grazie mille. Grazie mille stressante. Grazie mille тонi per entrare adicare Sì, sì, sì. Allora, Zimari, che fai? Brindi ai tuoi 94 anni, bravo. Con tutti i miei cari ci mancano parecchi. L'anno prossimo credo che fatemi campare e devono venire per forza. Per forza, Dominica. È giusto? È giusto. Tra i bratelli. Brava, brava. Poetica. Vuoi salutare i parenti americani? Quelli che sono venuti in Italia? Anche quelli che sono venuti in Italia. Anche quelli che devono venire a colpo. Anche quelli che si vogliono venire. Io l'accetto volentieri. Anna. Anna. Saluti a Linda. La mia nipote Linda. A Sue. A Sue. A Sue. Art. Art. Betty. 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 John. E a John. Nella, uno. C'era uno ceto. Non è già da più venire, ma si è capito. Occhio, c'è un aspetto. Come si chiama? C'è donna. Un marito di… Sì, come. Anche una cosa più cagliata da Zhu. Un marito? Un che? C'e capito? Ma lei vede? Come vede in paese? Che vede in paese? Come si chiama? Betty. Betty. Betty è un'altra. No, no. Quello che vede, no, prima volta, Linda. Ah, venne Linda? si si, linda, linda e se l'hai ricordato? che mi lasciava una fotografia e mi avevo la mangio trovata molto piacere, quando voglio venire mi porto una nora a mangiare i mangi ora un commento della stampa in diretta allora la stampa apprezza moltissimo, siamo in diretta già qui in diretta, si si apprezza moltissimo l'agnello di queste zone, ben cotto piccolino, tenerissimo, gustosissimo insieme con un'insalata mista piccolina, tenerissima verde, vercolino, tenerissimo buonissimo buonissimo, tutto va bene lei ha apprezzato tutto? buonissimi spaghetti, spaghetti buoni verdura questo spero che non vada in internet perché raccomando tutti quanti di non mangiare le verdure non di stagione invece guardate la dottoressa Necchiarico la dottoressa Necchiarico non ha potuto scegliere in questo caso e si ritrova nel piatto i comodori, i cetrioli e i cetrioli e lo so sopravviverà perché sopravvivo, mi impegno dai va bene grazie la bambina la bambina ha l'impegno di diventare di raggiungere la mamma è un gol difficile via come mangio questa? ma mangio pure quella si chiama? è la bulgina americana non mi piace che ne so che poi l'avete sabatino di Udine vuoi mandare un saluto al suo fratello? guarda qua il saluto non vedi il ruolo lina, Rita agosto facciamo il pranzo tutti insieme agosto facciamo il pranzo tutti insieme bene viene pure Giovannino, Bruno eccetera eccetera grazie signori via grazie sembra affettuoso l'ora adesso se la prende la saluta via c'è sta un buco ecco Sia Maria ecco Sia Maria la macchinetta? c'è la rosa c'è la rosa c'è la rosa allora Sia Maria dici 94 anni come ti senti? benissimo come una di 10 anni quella è importante hai avuto parecchi regali? molti ma regali e tanto affetto è bene da tutti i miei nipoti sono vicini mettete tutti quanti dietro? io voglio tutto bene anche dall'America hai avuto tanti auguri da Anna ti hanno mandato da Roma Anna, Carla tanti auguri tanti auguri che scambiamo venite tanti auguri Zia Maria che scambiamo per Fausto e va bene ecco sta arrivando vai arriva l'ultimo come ha raccomandato? auguri auguri ecco vai vai Emilio manchi tu è arrivato tuo marito già abbiamo fatto tuo marito ciao quanto è bella girata qua tutto bene siamo tutto bene siamo pronti? siamo pronti? sei pronta non ti dici 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 ti ha pensato solo e spegne? accendi l'altra volta voglio arrivare che bella è felice no no perciò si spegne confini aspetta vieni Mila adesso io l'ho capito mettete dietro aspetta guardate se vieni lo faccio vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua non c'è capito che stai facendo cosa vieni qua guarda 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 qua non è così come si fa come si fa no una mia no una mia una macchinetta non è da mettere facci vedere come vengono facciate come vengono va bene sì ecco andiamo dopo che è rossa guarda la rossa in fotografia vabbè vabbè dopo gliela fai vedere facciate no aspetta no aspetta lo fate me lo fate no tocca rifare emilio accendi un'altra volta e no poi dobbiamo cantare noi noi accendi un'altra volta non posso dire cosa c'è di emilio dai i tuoi comandi per spegnere allora bellissimo guarda che bella questa foto adesso visto che hai imparato a spegnere no scusa fai un pensiero e non lo devi dire dall'altra voce e non lo devi dire neanche dopo non lo devi solo pensare lo devi solo pensare l'hai pensato l'hai pensato l'hai pensato e non lo dire brava brava zia maria auguri bravo a tutti un applauso la sua volta io non ho sembra ma troppo l'hai pensato una volta va bene arrivo a te ma non so l'hai pensato l'hai pensato è spenso mamma tecchia e io ce l'hai pensato ma finita come la finita che ne sa che ho acceso è spenso ma è mamma soffra ragazzi ti sputtici come non ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto anche un mondo è ria a te Grazie a tutti. Hai tagliato? Taglia un'altra volta. Sorride, ma... Ma l'ho già tagliato, ma tagliato che sta affettando? Non, ma l'ho così. Quasi? Eh, scusate. Oh, brava! Tra i sorridi, sorridi! Va bene. Attento, aspettalo! Attento. Sia ferma, non c'è capito. Ha fatto tagliare. Ammazza che... Come lui mi dice, è un papà. Questa è la grotta. Questa è la marmo. Arcore l'ha presa. Ah, arcore! Ah, da voi! Questa è la tua buonga buonga. Sapati, tu che sei proprio filmato. Io ho fatto filmato a voi più scuole. Sì. Guarda qua ti ha preso. Mentre è un po' vicino a tua azia, che non c'era mai una vicino a tua. Ah, non l'ha fatto neanche niente. Sì, non lo sapevo. Sì, non lo sapevo. Ho detto che ne ho faccio il bagno. Cioè, fa comunque semplice. Fai un uomo. C'è 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 un uomo. Forse perché non boci bene la sera. Quale poesia? No, ma non sai, il soggetto è una zappa. Niente carboidrati. E' il vino. 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 C'è un uomo. E' il vino. E' il vino. E' il vino. Belli bellissimi